La macchina scenica si è fermata, ma è una sosta, non un cavolino. Ripartirà più forte che mai. La nostra maschera non trattiene il virus, ma pince la paura di restare soli. Adesso è il momento di diventare prima di tutto persone, cittadini, abitanti del mondo. Adesso ci fermiamo, giù la maschera, cala il sipare, ma non si fermerà l'amore per l'arte. Non si fermerà la nostra passione, il nostro impegno. Non si fermerà la nostra creatività. Ci saremo. Ci sarete. Un teatro aperto accende la vita. Un teatro civile rispetta le regole e può salvare la vita. Grazie. Grazie. Grazie.